ZOMBIE APOCALYPSE Oltre arrivata contro un avversario che avevo già incontrato durante questo fine settimana e che ero riuscito a battere, quindi c'è anche un po' di rammarico perché sarebbe potuto essere un 40-0 magari. Voglio mostrarvi però una delle partite probabilmente più scriptate che ho giocato all'inizio di FIFA 18 e che mi è capitata durante questo fine settimana. Non vi voglio spoilerare niente ma vi assicuro che è successo davvero di tutto in questa partita. Ed eccoci in partita, vediamo subito il nostro avversario che cerca una ripartenza con Martial che distrugge fisicamente Majoral che ancora non ero riuscito a far uscire. Vince anche una serie di rimpalli con Henry, poi scambia rapido con Del Piero, entra in aria con Henry e mi fulmina subito, pronti via, vado sotto 1-0. Io ovviamente so di dover recuperare sin dall'inizio questa partita quindi cerco di salire con Bale che vince anche un rimpallo. Cerca Ronaldo in avanti che scambia con Suarez, poi palla per Vidal, vengo chiuso, allora il mio avversario prova a ripartire. Però c'è Boateng, ottimo l'anticipo, bellissimo qui lo scambio tra Ronaldo e Suarez che davanti al portiere col piatto non può sbagliare e quindi siamo 1-1 al ventesimo. Continua ad attaccare però è il nostro avversario che ha un'occasione davvero molto importante al quarantesimo. Vediamo qui Valencia che prova a salire lungo la fascia, palla per Del Piero, palla che torna nuovamente a lui con Martial, parla ancora con Del Piero. Qui sbaglio a selezionare Boateng e ancora Henry, sempre alla stessa posizione, mi fulmina e quindi 2-1. Sappiamo bene però che una volta fatto gol bisogna stare molto attenti. Allora io cerco di ripartire subito con Suarez, palla e viene recuperata da Goretzka, ancora Vidal per Bale, Suarez, palla dentro verso Ronaldo che è col destro. Ci riporta in parità. Ed eccoci nella ripresa, ancora un'azione del nostro avversario con Valencia e Del Piero che cerca Henry in aria ma non lo trova. Allora cerco di ripartire con lancio lungo verso Ronaldo che però non trova Suarez. Allora riparte il nostro avversario con questo scambio ancora tra Del Piero e Henry con Desailly che va a vuoto. E Henry ancora una volta davanti al portiere, non sbaglia per la tripletta personale e quindi 3-2 per il nostro avversario. Nuovamente però dalla battuta. Cerco subito di fiondarmi in avanti con Ronaldo, vede Suarez, palla per Bale, lascia partire il destro. Palla che viene intercettata dall'estremo difensore. Lui non riesce a uscire, io ancora con Bale, vedo Suarez, piattone, 3-3. Però non contento il gioco, cosa decide di fare? Altro calcio d'inizio. Dalla battuta parte lui stavolta. Vince un rimpallo, Valencia vede Martial, serve Henry e solissimo con la Sinac dall'altra parte. Qui la deviazione sfortunatissima di Desailly, quindi 4-3 nel giro di 3 minuti ci sono stati 3 gol. Una buona possibilità da calcio di punizione dai 23 metri. Faccio partire Ronaldo con la finta, lo servo con Alaba in aria. Ronaldo si gira in un fazzoletto e fredda il portiere per la rete che vale il 4 pari, quindi nuova parità. Passano ancora una volta pochi minuti, vediamo il nostro avversario che si appresta al rinvio dal fondo. Corto però, allora viene intercettato da Bale, palla verso Arez, ancora verso Bale, dentro per Ronaldo. 5-4, finalmente riusciamo a trovare noi la rete del provvisorio vantaggio. Ultimi minuti di gara che scorrono in maniera abbastanza lineare. Cerco infatti di tenerlo più lontano possibile dalla porta. Qui cerco di servire Fogba tra le linee, ancora Valencia, mi rifugio all'indietro. Faccio girare la palla perché ormai volevo solamente che questa partita finisse. Goretzka serve Boateng. Alaba decide di servire Del Piero, lanciandolo in campo aperto. Del Piero poi si poggia su Valencia, io cerco di coprire Del Piero. Alaba non chiude la linea di passaggio. 5-5 al novantesimo, mi prendo anche la zittita in faccia. Siamo dunque ai supplementari. Vediamo il nostro avversario che ringa all'uzzito, cerca di imbastire un'azione offensiva. Lo chiudo con Boateng. Poi Del Piero serve Henry, che ancora una volta vince un rimpallo in maniera clamorosa. Serve Martial, che è solissimo al centro e mi fulmina. Per la rete che vale è il 6-5, quindi torna in vantaggio il nostro avversario. Andiamo a vedere questa azione di calcio d'angolo con Pogba, che la dà vicino a Valencia. Cerco Ronaldo dentro. Palla che arriva a Vidal. Poi Suarez si gira e con il mancino trova la rete del 6-6 al finire del primo tempo supplementare. Ci rimettiamo dunque in carreggiata. Siamo nell'ultimo tempo supplementare. Mancano ormai meno di 10 minuti alla fine. Vediamo Goretzka che recupera questo pallone importante. Può servire Vidal. Poi Dembele Suarez. Cerca Ronaldo che viene chiuso. Ancora Goretzka. Bello l'anticipo. Ancora Vidal. Ancora per Goretzka. Palla dentro per Ronaldo Suarez. Qui fortunato anche io. E poi Ronaldo mette dentro la rete che vale il 7-6. Quindi torniamo ancora noi in vantaggio. A 5 minuti dalla fine. Vediamo il nostro avversario che si riversa in avanti. Cercando disperatamente la rete del pareggio. Probabilmente ha anche aumentato un po' il volume delle azioni offensive. Infatti qui viene bucato con questa azione di contropiede. Con Suarez che dal limite dell'area lascia partire un tiro a giro preciso. Che si insacca sotto l'incrocio. Per la rete che vale l'8-6 in questa partita davvero infinita. Ed eccoci qui. Quindi come potete vedere. Riusciamo a portarci a casa. Questa partita. Che era fondamentale per continuare la serie di vittorie che stavo facendo. Come potete vedere dalle statistiche. Non voleva proprio entrare. E niente. A me non resta che salutarvi. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi esorto dunque a lasciare un mi piace per il risultato che ho fatto. Lasciatemi un commento se avete qualsiasi domanda da farmi. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi.